Hello guys e benvenuti in questa nuova deck profile molto veloce dedicata al formato Tengu con il mazzo Naturia finalmente oserei dire allora dato che ho pochissimo tempo io andrò abbastanza veloce e quindi se non siete iscritti al canale e siete nuovi vi piacciono contenuti Edison Retroformat Tengu Plant per l'appunto come la deck profile medesimo anche unboxing di prodotti vintage o simili iscrivetevi al canale è gratis ma supporta notevolmente il mio lavoro farò una breve introduzione al mazzo allora il mazzo diciamo è diverso un po' da quello divenuto famoso che ha fatto Top in un evento Tengu di cui non ricordo il nome preciso però diciamo la funzione lo scopo del mazzo è più o meno lo stesso quindi quello di fare lock il mazzo ovviamente è un for fun ed è un quasi full Naturia quindi utilizza solamente mostri pianta ad eccessione del debris dragon ma per l'appunto lo vedrete dopo quindi senza perdere altro tempo andrei a illustrare il mazzo quindi tre Naturia Bamboo che sono praticamente il boss monster del mazzo in un certo senso che praticamente quando viene evocato tramite tributo sacrificando ovviamente un mostro Naturia fino a quando questa carta resta sul terreno l'avversario non può attivare carte magie e carte trappola quindi abbiamo la prima lock sulle trappole e magie dell'avversario poi abbiamo tre cliff che sono appunto i recruiter di Naturia molto molto forti e tre ciliegie che praticamente oltre ad essere a livello 1 sono anche dei tuner e quando muore 1 praticamente ne arrivano altri 2 coperti quindi manco scarsi poi abbiamo due Naturia Castagna che diciamo fanno da pot of Aparis infatti quando vengono evocate normalmente possiamo mandare un mostro Naturia dal deck al cimitero quindi anche foolish me l'ho dimenticato e una volta per turno possiamo scegliere appunto due mostri Naturia nel cimitero mischiarli e poi pescare una carta quindi un Aparis molto indebolita però carina da giocare che sto pensando anche di portare a 1 e poi come ultimo diciamo Naturia gioco la zucca la zucca che praticamente ci permette di calare un Naturia dalla mano special allora all'inizio non mi piaceva però in realtà mi sono ricreduto perché a seconda del contesto può essere molto forte perché possiamo benissimo calarci un tuner magari abbiamo già un altro livello 4 sul terreno possiamo fare 4 e 4 e 1 a 9 quindi ci caliamo Trisciola o semplicemente possiamo fare 4 e 4 per fare un Nixeed quindi calarci uno dei nostri ranghi 4 quindi questo era per quanto riguarda i mostri Naturia passiamo un po' al reparto pianta quindi abbiamo un po' non la Trinity ma il poker di piante ormai divenuto famoso tramite il Tengu Plant assieme ovviamente al Debris Dragon proprio per fare l'Ace totale e infine come ultima carta all'interno del mazzo per i mostri abbiamo due Cactus i Cactus praticamente cosa fanno? sono un po' dei Vanity's Fiend semplicemente vabbè non possono essere evocati i Special altrimenti sarebbe veramente rotto rotto e praticamente non fa fare Special finché ci sta una pianta scoperta sul terreno quindi livello 4, 1.800 che ripeto può anche essere sostituito da il Vanity's Fiend però per l'appunto questo livello 4 è caruccio peccato che non sia Naturia però se fosse stato Naturia un mostro di Archetipo di Archetipo sarebbe stato veramente rotto passando alle magie abbiamo tripla pod diciamo che è un mazzo abbastanza lentino chiamiamolo così e tende a fare tanto tanto control quindi in questo caso preferisco avere tripla pod nella mano poi avremo una carta trappola per cui capirei del motivo per cui gioco anche tre pod dove sono? doppio tifone, non gioco la tempesta perché giochiamo un bot di trappole e tendiamo a fare tanto control con questo mazzo potenzialmente potreste anche giocare monotifone ma vi sono trovato meglio a due foolish e one for one inutile dirlo dato che abbiamo diversi livello 1 abbiamo spor, abbiamo bulbo quindi fortissima dark hole book of moon che è veramente forte soprattutto in questo formato il reborn e la pot of avarice quindi abbastanza staple per quanto riguarda le magie passiamo al reparto più particolare quello delle trappole dove abbiamo due warning due pollinosi che sono praticamente il solenne delle piante aspetta ve lo faccio vedere da vicino ed è una controtrappola e praticamente funziona tributando le piante ed è un solennone praticamente due safe zone che ci permettono di attivare la lock praticamente la lock totale sarebbe avere natura bambù cactus più questa e l'avversario letteralmente non gioca più infine diciamo come carta in doppia copia abbiamo ultima offerta ultima offerta che è una carta che io adoro in questo mazzo personalmente mi piace un sacco e infine abbiamo le classiche trappole questa qui la mirror forse nel caso potreste anche decidere di rimuoverla così da giocare a 41 perché sono 42 carte ed è anche vero che è un mazzo molto molto corposo ma è anche perché abbiamo un side deck anche abbastanza solido motivo per cui abbiamo bisogno di numerosi slot da cambiare quindi extra deck molto velocemente abbiamo il trio dei naturi asincro nego magie nego trappole nego effetti mostro poi giochiamo il formula asincro armory arm katastor brionac black rose scrap dragon non ho trovato spazio per il colossal fighter purtroppo lo stardust dragon trisciula e infine come xxed abbiamo il roach utopia come dicono i nostri amici inglesi e un leviere e infine abbiamo il side deck quindi abbiamo due vader e due max c molto molto forti e due vanni di spin che ho inserito di side che volendo potreste anche pensare di inserire di main poi gioco una heavy stone sempre per sicurezza due di succhiere alla luce su queste sono ancora indeciso onestamente se mettere magari il terzo tifone a posto di questa ma vabbè e poi diciamo le carte veramente forti che sono tre rivalità dei signori di guerra e tre gozenmatch ricordiamo che il ruling in Tengu è leggermente diverso da Edison nel senso che per farvi un esempio scemo come dicevo anche nel video di Sasser Dragon che è l'ultimo che ho caricato quindi se non l'aveste visto andatelo a recuperare se per esempio abbiamo la ranocchia degli alberi sul terreno e il nostro avversario volesse calare Kaius mentre una di queste due appunto è attiva non può farlo perché deve essere per forza dello stesso tipo o attributo appunto a seconda della carta per poterlo calare quindi a differenza dal formato Edison qui queste due carte sono veramente rotte 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 ed è uno dei motivi per cui diciamo Control è veramente forte nel formato Tengu Plant io quindi vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto scusate se la decklist è stata molto veloce diciamo con poche spiegazioni magari anche un tipo di spiegazioni che può piacere anche di più sono solito diciamo a estermi un pochettino di più ma anche è vero che se lo faccio lo faccio con Drago che è un mazzo che conosco decisamente molto di più fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti ovviamente la decklist è migliorabile e come ho già spiegato più volte nei video sono in un periodo veramente particolare particolarmente impegnato quindi sia il tempo per il test che per il video è naturalmente ridotto in questi mesi e per questo vi chiedo scusa spero in ogni caso che decidiate di supportarmi e di seguirmi diciamo per tutto il viaggio per poi appunto annunciarvi cosa sta succedendo grazie ancora e dopo questo camioncino che è passato arrivederci al prossimo video see you next time see you